La prima volta dopo Nanchino in Cina, Barcellona e Buenos Aires sarà l'Italia a ospitare i World Skate Games che, come ha detto dal Ministro Abodi, sono i mondiali dei mondiali. 154 titoli mondiali di tutti i nostri sport che vanno dallo skateboarding al pattinaggio artistico, il pattinaggio di velocità, l'hockey, il downhill, tutti sport belli, uno diverso dall'altro, ognuno ha il suo fascino con un unico comune denominatore, le rotelle sotto i piedi. È bellissimo, noi siamo uno sport a cui i giovani guardano, se a Tokyo siamo stati i più visitati sui social ci sarà una motivazione, lo sport è bello tutto, ma credo che le rotelle abbiano un fascino, un appeal e molti giovani ce li portiamo vicini. Stiamo cercando di fare anche un evento diverso dai soliti, cioè deve partecipare anche la popolazione. Ogni sede nostra che sarà in Abruzzo, sarà a Roma Capitale, sarà a Novara, sarà a Rimini, ma tutte queste nostre sedi dovranno essere un'area di fanfest dove anche la cittadinanza possa vivere vicino ai nostri atleti, i nostri campioni che vengono da più di cento paesi al mondo e cinque continenti. Un gran festival della gioventù in Italia.